Dottor Galandra, la squadra è stata fatta, quali sono i suoi impegni a secondo le sue deleghe? Sì, la squadra è stata fatta e ne sono molto lieto. Le deleghe sono innanzitutto quelle al bilancio, che sarà una delega molto impegnativa, visto anche la scarsezza di fondi di cui in questo momento soffriamo, e poi c'è una serie di altre deleghe abbastanza interessanti, come quella dei rapporti con l'Università e con il Polo Sanitario di Pavia, i gemellaggi e i rapporti comunque internazionali della città, quella dei servizi civici, che è anche questa molto importante, ed altre deleghe minori che comunque io credo siano significative e possono anche permettermi di dare un buon contributo al governo della città.